Dall'1 al 3 luglio la piccola si trasforma in centro sportivo. Nel frattempo ha già registrato il tutto esaurito l'evento inaugurale firmato Federico Buffa, che apre i giochi il 30 giugno alle 21 con lo spettacolo sulle Olimpiadi del 1968, due pugni guantati di nero. L'ingresso alla piccola playground è gratuito e aperto a tutti, ma in particolare è dedicato agli sportivi del 2020-2021, perché c'è una generazione che è cresciuta giocando al pallone nel cortile della scuola e c'è una generazione che tra palestre e centri sportivi chiusi ha seguito lezioni virtuali o ha fatto giochi in cuffie nelle orecchie sparsa per la città. Chi ha voluto non si è fermato, ma certamente non ha potuto supplire ad un aspetto fondamentale dello sport, la squadra, l'aggregazione e la socializzazione. Così Emanuele Torri, assessore all'educazione e sport del comune di Lecco, commenta l'iniziativa. Ripartire dallo sport è questo uno degli obiettivi che ha fatto nascere l'idea dell'iniziativa Piccola Playground. La vita deve ripartire e non può che farlo attraverso lo sport, dalla dimensione che ha caratterizzato la crescita di ciascuno di noi, quella del cortile, del playground, un luogo di incontro con la possibilità di crescita attraverso la socializzazione, il movimento e il divertimento. E questo è ciò che ci auguriamo con la tre giorni alla piccola. A corredo dell'iniziativa sportiva, street food e numerose eventi collaterali con immancabile premiazione finale.